Bella ragazzoli e buonasera a tutti quanti. Ragazzi, ci stiamo avvicinando ai 100.000 iscritti su YouTube e probabilmente quando guarderete questo video magari li avremmo già raggiunti. E vi dico che questa sera, ragazzi, ho organizzato una mega festa dove tutti quanti ovviamente siete invitati. Io sarò in streaming, ragazzi, su un altro sito, non su YouTube, trovate il link in descrizione anche nel primo commento. E stasera, ragazzi, giocherò con voi, giocherò con gli abbonati, con gli sponsor, staremo tutti quanti insieme su Discord, aprirò lo spumante non appena avremo raggiunto i 100k iscritti. E niente, ragazzi, stasera sarà un casino totale. Ci divertiremo tutti quanti insieme e a me farebbe tanto piacere se ci foste anche voi, ragazzi, questa sera perché ovviamente voi siete comunque i principali che mi seguono su YouTube. Siete coloro che mi seguono ogni giorno, che guardano i miei video, che commentano i miei video e io non smetterò mai di ringraziarvi per questo. Non appena il Games Week sarà finito, registrerò un video speciale per i 100.000, quindi circa una decina di giorni, aspettatevi un video veramente, veramente bello. Invece per questa sera voglio festeggiare insieme a voi. Quindi, ragazzi, vi aspetto in live, trovate il link in descrizione e nel primo commento, ragazzi. Vi aspetto, sono super felice di festeggiare con voi, quindi vi prego, ragazzi, non mancate. Vi aspetto, mi raccomando. Un bacione, ragazzi. Grazie ancora per questo mega traguardo. Vi aspetto in live, mi raccomando.